C'era attesa per l'esito dell'incontro di questa mattina tra il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Moliere, e la direzione della Pernigotti, dove si credeva fra gli altri argomenti, si parlasse anche della nuova ricollocazione dello stabilimento, ma di questa quanto pare, dalla nota inviata dal comune, non c'è traccia. Ciononostante, l'amministratore delegato Attilio Capuano ha portato forti rassicurazioni su quello che sarà il futuro dell'azienda, da alcuni mesi, nelle mani del colosso americano JP Morgan. Il colloquio, molto cordiale, è servito a conoscerci, a fare il punto della situazione, ha dichiarato il primo cittadino. Personalmente ho sottolineato il forte legame tra l'azienda e la nostra città e ho ribadito la piena disponibilità dell'amministrazione comunale a favorire ogni azione che consenta alla Pernigotti di continuare a produrre a Novi Ligure. Una priorità questa, più volte ribadita dal sindaco, da sempre in prima linea, soprattutto durante le tristi vicissitudini legate all'ormai ex proprietà Toxox, che di fatto aveva falcidiato sia la produzione che il numero dei lavoratori, facendo cadere la Pernigotti, in una crisi che pareva senza soluzione. La crescita dello stabilimento novese ha continuato a molire, può sicuramente giovare allo sviluppo economico del polo dolciario di tutto il territorio. Capuano, da parte sua, ha confermato la volontà di rafforzare il marchio e lo stabilimento e che si sta lavorando intorno a un futuro legato al territorio. A dimostrazione di questo, l'amministratore delegato Pernigotti ha presentato al sindaco il lavoro che l'azienda sta facendo per la campagna della prossima stagione natalizia, che dovrebbe implementare gli scaffali dei vari punti vendita non solo italiani, con altre nuove specialità. Ci siamo ripromessi, ha concluso Moliere, di rivederci a settembre per un nuovo confronto e per valutare insieme gli sviluppi della situazione.